Ciao a tutti amici e lettori di Androidblog.it, oggi siamo qui con il fidato Nexus 4 per una videoprova di una delle ROM più promettenti del panorama modding attuale. Intanto che accendiamo il dispositivo vi mostro il Multi-ROM Manager, cioè una semplice applicazione che permette di installare contemporaneamente sul sistema due ROM. In questo caso ho installato la ROM Stock nella partizione interna e in una partizione secondaria la Omni che andremo a testare. Davvero molto comodo questo applicativo. Quella che comparirà è la boot animation di Omni-ROM, i tempi di accensione sono nella norma, in questo caso leggermente maggiori ma sono semplicemente dovuti all'uso di Multi-ROM Manager. Faremo oggi una panoramica molto rapida sulle funzioni che sono già state sviluppate e rifaremo una recensione più completa quando la ROM sarà abbastanza matura, cioè quando saranno implementate tutte le funzioni principali che la caratterizzano. Quella che vedete è la schermata di sblocco, ovvero assolutamente stock. La ROM infatti è basata sul codice Android puro, AOSP, e non presenta particolari differenze dal punto di vista grafico rispetto al software che gira normalmente nei dispositivi della serie Nexus. Il primo impatto è sicuramente molto positivo, soprattutto per quanto riguarda la fluidità generale del sistema. E una piccola chicca, la vibrazione. Il feedback infatti è molto molto positivo perché dà la sensazione di essere profondo rispetto a KitKat stock che gira ad esempio sul Nexus 4, ma anche sul Nexus 5 abbiamo verificato la stessa cosa. Una volta installata la ROM è sempre necessario applicare le Google Apps, io le ho scaricate dal sito di Paranoid, perché non vengono fornite nello zip principale. La versione che abbiamo installato è la build del 20 gennaio, quindi abbastanza recente, solamente qualche giorno fa. È diciamo una Nightly perfettamente funzionante che segue la filosofia del team Omni, cioè di rilasciare Nightly che siano comunque abbastanza stabili e non piene di bug. Le applicazioni preinstallate non sono molte per la verità, ma sono tuttavia interessanti. Abbiamo il DSP Manager, che è una versione riveduta e corretta del DSP Manager di SianoGenMod. Grazie al DSP potremo controllare completamente la gestione dell'audio nelle cuffie, nell'altoparlante del telefono ed eventuali dispositivi collegati Bluetooth o via dock USB. Il DSP Manager funziona molto bene, anche se abbiamo trovato un piccolo bug nel riconoscimento di un dispositivo Bluetooth, nella particolarità una cassa portatile LG, che quindi dovrebbe funzionare correttamente. Sicuramente sono bug che verranno sistemati. Troviamo poi la torcia, cioè una semplice applicazione che permette di usare il flash LED come torcia. E infine troviamo il browser stock, che è per i nostalgici il browser del codice AOSP senza l'integrazione di Google Chrome, come avviene nei dispositivi Nexus. Per quanto riguarda i widget, invece abbiamo semplicemente Dash Clock, che funziona egregiamente ma non è possibile aggiornare, in quanto il Play Store lo legge come pacchetto non firmato. Questi piccoli bug non sono un problema perché sono portati sicuramente dallo sviluppo ancora giovane. Abbiamo come launcher la possibilità di scegliere tra GEL, ovvero Google Experience Launcher, oppure un launcher molto molto di base, senza alcun tipo di personalizzazione. Io ho scelto il GEL, che ha lo swipe verso destra, che attiva direttamente Google Now. Andiamo a vedere subito quali sono le opzioni aggiuntive inserite dal team fino a questo momento. Abbiamo i controlli dell'interfaccia, che prevedono la barra di stato. Nella barra di stato potremo attivare l'indicatore della velocità dello scambio di dati. Potremmo attivare un contatore di notifiche, che per la verità non funziona ancora sempre, in tutte le occasioni. Possiamo regolare le funzioni dei toggle rapidi, che qua vengono indicati come quick setting. Sono tutti personalizzabili tramite questo tasto. E sono modificabili nella posizione e nella funzione. Sono interessanti anche perché hanno una doppia funzione, che si attiva con uno swipe. Non tutti, ma alcuni. Per esempio, ecco, questo del volume, che fa variare anche, che indica anche lo stato della situazione audio. Quindi se i suoni sono attivati o disattivati. Troviamo poi i collegamenti di avvio rapido, che sono collegamenti che si possono impostare con l'anello di attivazione di Google Now. Quindi avremo due shortcut aggiuntivi. In questo caso io ho impostato una scorciatoia per Hangout e una per mettere in standby il display. Troviamo poi il long press back to kill up, cioè una funzione che permette, tenendo premuto il tasto indietro, di killare l'applicazione che stiamo visualizzando. Abbiamo le personalizzazioni aggiuntive nel menu di accensione e spegnimento, diciamo quelle classiche, screenshot, registrazione dello schermo, modalità aereo e audio. Abbiamo poi le personalizzazioni dell'area notifiche, in particolare leader notifiche, cioè uno sfondo che viene inserito nella parte alta del pannello delle notifiche. Lo sfondo cambia in base all'ora e alla data. E abbiamo anche l'active display, che è sicuramente una di quelle funzioni che caratterizzano la ROM. L'active display è una funzione che permette di accendere una piccola parte del display quando riceviamo una notifica. La funzione assolutamente rende molto con i display OLED, che hanno la possibilità di accendere solo piccole parti di display, ma funziona anche bene con gli altri tipi di smartphone, perché abbiamo la possibilità di regolare la luminosità dello schermo quando viene acceso con la notifica. Impostando quindi una luminosità non troppo alta, avremo la sensazione che venga illuminata solo una piccola parte del display. Legato sempre all'active display abbiamo la funzione tasca, che permette di accendere il display e mostrare le notifiche quando il dispositivo viene estratto in tasca e viene rispento il display quando lo ritiriamo al suo posto. Per il resto non abbiamo particolari personalizzazioni, tranne questo controllo sui pulsanti che ci permette di impostare funzioni aggiuntive ai tasti del bilanciere del volume, accensione e spegnimento. Infine abbiamo l'integrazione della gestione dei permessi di root come super su, non avremo quindi l'icona dell'applicazione super user o super su nel drawer, ma sarà direttamente integrata qua nelle impostazioni. Abbiamo anche i permessi delle applicazioni, ovvero l'app Hop che non è più stato integrato nella versione da KitKat in poi, ma Omni ce lo mostra nuovamente. Questa è la sua grafica, basterà toccare su un'applicazione per avere accesso a tutte le autorizzazioni. Infine avremo la personalizzazione sulle prestazioni, quella classica che troviamo un po' in tutte le ROM custom, in cui potremo impostare frequenza massima, minima della CPU, governo, rescheduler. Niente di particolare, ma per chi è abituato alle ROM custom è un must che non può mancare. Rispetto alle prestazioni, abbiamo deciso di non analizzare nel dettaglio quali sono i consumi e le prestazioni del dispositivo, anche a medio termine, perché la ROM, come dicevamo, è in fase iniziale di sviluppo. Nonostante siano passati alcuni mesi, KitKat è pur sempre un sistema molto giovane, quindi il modding ha bisogno di un po' di tempo per poter dare il meglio. In conclusione, la ROM sicuramente ha grandi potenzialità, soprattutto per i telefoni con display abbastanza grande, quindi per gli smartphone di ultima generazione, per i phablet e sicuramente anche per i tablet. Questo fatto è dovuto alla futura implementazione del multi-window. Multi-window è certamente il cavallo di battaglia di questa ROM e prevede la possibilità di aprire contemporaneamente più di un'applicazione. Adesso vi faccio vedere come potrà funzionare. Dalla schermata delle applicazioni recenti si potrà avere accesso ad un menu che permetterà di affiancare più di una finestra. Vi lascio comunque nella recensione scritta il link ad un video che mostra il funzionamento anche su KitKat. Funzione che però non verrà implementata in tempi brevissimi in quanto la filosofia del team Omni è quella di integrare le funzioni solo quando sono abbastanza stabili e da poter essere usate tutti i giorni. Quindi non aspettatevi questa funzione in tempi molto brevi, ma sicuramente vale la pena aspettare perché questa ROM oltre ad avere la potenzialità molto alta per i tablet e i phablet è comunque una valida alternativa anche per smartphone in quanto la fluidità generale del sistema e le caratteristiche aggiuntive aggiungono un tocco in più che forse manca all'esperienza stock di KitKat senza smaturarne le prestazioni e il codice. Per questa videoprova è tutto, un saluto da Matteo per Androidblog.it